Una fatturazione più puntuale, cittadini più consapevoli dei propri consumi e meno disagi causati dall'eventuale distacco delle singole utenze in caso di morosità di una o più famiglie. Sono solo alcuni dei vantaggi derivanti dalla nuova proposta di Aset S.p.A. che intende promuovere la possibilità di una scissione da parte delle cosiddette utenze indirette, cioè di coloro che risiedono in un condominio composto almeno da due unità immobiliari e non sono dotati di contatori individuali. Questa possibilità consiste nel poter scindere tutte quelle utenze che per adesso sono collegate, quindi nei condomini da due abitazioni in avanti che hanno un unico contatore si dà la possibilità di poter fare in modo che ognuno abbia il proprio contatore personale. Perché? Perché intanto vogliamo responsabilizzare sull'uso della risorsa idrica che è sempre più importante, quindi su uno spreco. E poi perché c'è anche una responsabilizzazione su quello che si paga, quindi ognuno consuma e paga quello che effettivamente consume, non è soggetto ad altre variazioni o ad altri consumi che possono venire da persone che sono comunque collegate allo stesso impianto. Quindi adesso abbiamo inviato a tutti i condomini una comunicazione dove spieghiamo esattamente come portare avanti la situazione. E vi impegnerete anche a sostenere i costi dell'installazione? Sì, noi ci impegneremo intanto a sostenere tutte le attività che vanno fatte nella parte privata, a implementare l'allaccio, quindi praticamente con tutto quello che serve per l'allaccio. In più abboniamo praticamente il nuovo contatore che verrà applicato, perché chiaramente da un unico contatore ne verranno fuori una molteplicità e quindi cerchiamo, non li faremo pagare questi contatori che andremo ad applicare nei vari immobili e quant'altro. Vogliamo raggiungere appunto un obiettivo ancora, diciamo così, più prestigioso che è quello di consumare ancora meno acqua di quella che abbiamo consumato fino ad oggi. E per questo obiettivo abbiamo previsto un budget entro la fine dell'anno, entro il 2024, però nulla vieta che qualora le domande siano superiori a quelle che ci aspettavamo di prolungare questa sorta di esegolazione anche per il futuro. L'ordine sarà quello della provenienza e quindi la data di provenienza e da lì si partirà, la data di provenienza della domanda che si farà. E com'è possibile presentarla? E' possibile presentarla online, chiaramente poi se ci sono delle problematiche a livello di amministrazione condominiale e quant'altro, quelle riguardano i vari regolamenti che regolano l'attività all'interno dei condomini. Per il resto c'è la domanda da fare online presso il nostro sito e da lì poi parte tutta la procedura che ci vede collegati e che comunicherà ai cittadini quando sarà il momento in pratica di portare avanti l'attività.